Le menze scolastiche toscane diventano a chilometro zero. Sulle tavole degli studenti toscani fin dall'asilo nido si potranno trovare verdure e frutta di stagione, cibi certificati di filiera corta e biologici. La novità è contenuta in una legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale e presentata nella sede della Regione Toscana dall'assessore all'istruzione e formazione Cristina Greco e dall'assessore all'agricoltura Marco Remaschi. Un modo per incentivare il consumo di prodotti agricoli della pesca e dell'acquacoltura locali. I prodotti sono prodotti a chilometro zero, prodotti certificati, prodotti che chiaramente miglioreranno il livello qualitativo nelle menze della nostra Regione Toscana. Quindi auspichiamo che da subito ci sia questo tipo di percorso. Siamo sicuri che anche l'incentivo di carattere economico per finanziare alcuni progetti pilota aiuterà e stimolerà in questo. Dal 2020 sono infatti previsti incentivi per chi utilizzerà prodotti provenienti dal territorio, finanziamenti che andranno a progetti pilota con un budget disponibile di 500.000 euro per il 2020 e altri 500.000 per il 2021. Un'iniziativa che non vuol dire solo mangiare sano ma che ha anche un valore educativo. Insegna i ragazzi appunto a consumare cibi sani e cibi che sono del territorio, quindi che non richiedono trasporti e quindi consumo per essere portati sulle nostre tavole e soprattutto cibi di stagione. Le risorse stanziate dalla Regione saranno destinate a progetti presentati da soggetti pubblici che erogano il servizio o lo appaltano.